Intro Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio Zagero e ben tornati sul mio canale Oggi siamo tornati con un nuovissimo video sulla serie di Dragon Ball Xenoverse 2 Allora sto vedendo che il primo video vi è piaciuto davvero tanto e quindi molto probabilmente continueremo la serie Dopo la customizzazione del personaggio oggi vi porterò probabilmente, non lo so, andremo a scoprire insieme Il primo combattimento, quindi noi con il nostro Saiyan andremo ad interferire con il susseguirsi delle vicende Quindi probabilmente ci sarà il primo scontro tra Goku, Junior e Radish Andremo a scoprirlo tra pochissimo Io vi ricordo di continuare a supportare il canale, iscrivetevi, attivate la campanellina Condividete, commentate e lasciate un bel like Adesso, eh Mi raccomando, seguitemi su tutti quanti i miei profili social Trovate qua sotto il link in descrizione E continuate a passare in live, mi raccomando che giochiamo e ci divertiamo insieme Noi non ci dilunghiamo più di tanto E, bella, noi ci vediamo alla fine del video Allora signori, sono andato leggermente avanti Perché, allora, sto a parlare qui con il Kaioshin del tempo e il bellissimo Toki Toki E niente Adesso dobbiamo andare a trovare Kaioshin Intanto vi faccio vedere un po' come l'interfaccia Quello qua, là c'è Shenron abbastanza impetante Allora, vi devo dire la verità Io ho già giocato allo Xenoverse 1 Molto molto bello il gioco Questi qua sono tutti quanti altri giocatori online Soltanto l'unica cosa brutta di Xenoverse 1 E che è troppo corto il gioco Si farma Dragon Ball Z Si farma invece questo qui Penso sia molto molto più bello Perché appunto c'è Dragon Ball anche GT E ovviamente E anche Dragon Ball Super Allora, signori, abbiamo fatto il tutorial E ve l'ho risparmiato Perché, cioè Non ci interessa più di tanto E niente Facciamo questo primo combattimento Questa è la capsula E adesso vai Incazzatissimo questo Mi sento fastidio Devi morire Devi morire Arrivo, arrivo Dai, ce l'ho, ce l'ho Ci devo stranicare No, 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 no Contrattacco Ammazzato, ti prendo Ciao Vabbè, se ne dobbiamo ancora capire Dalla morire Adesso Ciao Lo salutiamo Ok ragazzi Questa è invece la nostra Prima e propria Missione Oddio, ragà Che figata Carriato Radice Mamma mia Vabbè, vuol già amore Che ricordi, signori Fighissimo Voglio Dai Ciao Anche se non andava a cucci Però ci sta E mo? Ma Voglio si è spostato Cioè è cambiata la storia Ecco, sto arrivando Sto arrivando Eccoci Colbar is coming Va la figura Non è andata molto bene Come ingresso Non è stato un gran che Però Ci rifaremo Entrata trionfale Vai, vai Ma li rompiamo il culo Radice Ci proviamo Vai Ok Dobbiamo solo sconfigge Guarda Radice È fighissimo Un sacco di gente Lo scaga Ma secondo me È fighissimo Radice No matter how much trash there is Fa così Vai È giusto a prendere la mano Vabbè, due contro uno È un po' da infami Però Radice è forte Raga Mamma mia Che qualità Non l'ho preso una volta Va bene Fai il tutorial Dopo 7 secondi Si scorre tutto quello che Non mi ricordo Un tasto Mamma mia Easy Easy Ce l'abbiamo fatta Grado Z Ovvio Ok Ok Adesso Abbiamo aggiustato la storia E finisce così Questo è un momento tristissimo Ragazzi Mi viene quasi da pianti No Non lo reggo No 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 Bruttissimo A che prezzo Però Siamo scomparti Perché noi siamo Dei pattugliatori temporali E quindi dobbiamo semplicemente Rimettere a posto la storia Non è vero Stiamo qua Ho detto una cazzata Benissimo Dirò mai una parola? Fuga Ok Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Che cazzata Ma fa Sto qua E la serie Iscrivetevi qua sotto Se volete vedere qualcosa In particolare E se volete Che shop Tutti quanti I nuovissimi personaggi Che vi andrò a fare vedere In un video Grazie mille per l'attenzione Noi ci vediamo All'un prossimo video Bella Grazie mille per l'attenzione